La presenza in Abruzzo del vice direttore della Giro d'Italia Stefano Allocchio fa respirare agli appassionati tantissimi di ciclismo il profumo di Tirreno Adriatico e di Giro d'Italia. Andiamo con ordine, Tirreno Adriatico, novità per il 2016? La stiamo progettando un attimino, quindi con l'aiuto del nostro amico Maurizio Formighetti cerchiamo sempre di cercare delle città che ci possano ospitare sia per la Tirreno che per il Giro. Quindi è un viaggio esplorativo. C'è qualche possibilità concreta di riportarla questa Tirreno nel 2016? Ma sicuramente le possibilità ci sono, come detto dobbiamo capire un momentino come sarà la struttura, da dove arriveremo, quindi però possibilità ci sono. Anche perché la Tirreno Adriatico con Passo Lanciano, con Guardia Grele e con Chieti in Abruzzo ha sempre regalato delle grandi emozioni? Ah sicuramente, l'ultima è stata Guardia Grele, il famoso muro di Guardia Grele che ha fatto tanto rumore, a parte la vittoria di Contador, ma anche per gli appassionati esteri il muro è stato veramente un grande successo. L'Abruzzo sarà presente nella prossima Tirreno al 70-80%? Facciamo un bel 50%. 50% e poi vediamo, però il sorriso mi fa pensare anche a qualcosina di più. Giro d'Italia verrà presentato il prossimo 5 di ottobre nella grande serata di gala. L'Abruzzo questa volta lo diamo per certo, sarà protagonista. Rocca Raso, arrivo di tappa, sul Monarch. Io non do niente per certo fino al 5, perciò sono uscite tante notizie anche non vere, quindi aspettiamo, dico ai tifosi di aspettare il 5 di ottobre e lì si vedrà. Però insomma Rocca Raso c'è un bel clima verso maggio, quindi un po' freschetto in montagna. Sì, aspettiamo il 5 di ottobre. Di sicuro però ci sarà un acronometro con un buon Chianti, ecco questo è stato ufficializzato. Beh, quello è già stato ufficializzato, poi lunedì presenteremo un'altra tappa, quindi Zoncolan, aspettiamo il 5 ottobre. No, ma aspettiamo lunedì, lo vedremo. Un pronostico mondiale di Richmond all'occhio, una bella nazionale sta nascendo. Molto bella, sì, mi è piaciuta tanto come composizione e spero veramente che questa sia la volta buona per noi italiani. Fabio Aru, secondo al Giro d'Italia, primo alla Vuelta. Abbiamo trovato dopo Nibali un altro grandissimo corridore per le corse a tappe. Ha vinto una grande corsa come la Vuelta e ha dimostrato al Giro di essere un corridore da corsa a tappe, quindi il nostro augurio è quello di rivederlo al Giro l'anno prossimo e che possa sicuramente fare quello che ha fatto alla Vuelta. Però Fabio Aru, subito dopo la Vuelta, ha dichiarato per il 2015 mi piacerebbero tour e Olimpiadi. Provedete a fargli cambiare idea? Assolutamente sì, il nostro lavoro è quello di far cambiare idea a tanti manager e corridori. L'ultima all'occhio ospite nella trasmissione dove sta andando in onda questa intervista c'è il nostro Maurizio Formichetti che è citato in apertura come grandissimo esperto di ciclismo per le corse in Abruzzo e non solo. Vogliamo però parlare anche un po' di derby Inter Milan? Cosa devo dire? Io sono la persona più felice perché l'Inter ha battuto il Milan. Poi devi sapere che essendo milanese il clima che si respira a Milano il prima e il dopo c'è tanta tensione. Quindi dopo il fischio finale la liberazione di noi interisti con gli sfottoi milanisti è stato molto elevato. Quindi il derby per noi è più di qualsiasi altra cosa. Allora per consolare Maurizio gli regalerete una bellissima tappa alla prossima Tirreno. No, gli regalerò una bella maglia dell'Inter.